Buongiorno, come sapete i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande e i due colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a porgerle a mister Fonseca. È presente invece in sala l'inviato di Sky, Angelo Mangiante, a cui lasciamo la parola. Buongiorno, buongiorno. Senta, come si riparte verso Roma-Cagliari? Nel senso, l'è stato molto chiaro nel post-partita, non ha gradito l'atteggiamento del secondo tempo della partita. Come si riparte come qualità del gioco per ripetere quelli che sono stati i 45 minuti? Facendo anche qualche cambio in vista di domani? Sì, farò qualche cambio per domani. Sono tante partite, adesso farò il cambio nella squadra per poter vincere questa partita che è importante per noi. Quindi immagino che punterà su delle forze fresche, no? Magari chi ha giocato meno o chi non ha giocato per niente a Bergamo. Faccio tre nomi, Calafiori, Kumbulla e Villar. Saranno loro, ad esempio, in campo dal primo minuto? Calafiori, Kumbulla e Villar. Vediamo domani, ma qualcuno di questi che ha parlato giocherà domani. Buon pomeriggio, mister. Domanda della Gazzetta dello Sport. Pedro, dopo un ottimo avvio, sembra meno brillante. C'è un problema di condizione fisica in questo momento. Domani giocherà? No, Pedro non ha nessun problema fisico. Domani giocherà. Domanda del Corriere della Sera. Smoling, che probabilmente non è ancora al top della forma fisica, sembrava più a suo agio nella difesa 4. Sta pensando di schierare un altro giocatore come centrale della difesa 3, magari spostando Smoling di posizione? È normale che Chris non ha la migliore forma fisica adesso, ha ritornato adesso, ha giocato due partite, ma sta migliorando. Questa questione della difesa 3 con Chris non è vera. Non è vera. Possiamo ricordare tante partite che Chris ha fatto con tre difensori e ha giocato sempre bene. Il romanista le chiede, abbiamo letto di qualche malumore dirigenziale sulla sconfitta di Bergamo. Volevamo sapere se ha parlato con la società e com'è il clima intorno alla squadra. Qui quando non vinciamo siamo sempre di malumore, tutti, tutti, siamo tutti insieme e stiamo anche lavorando tutti insieme per domani vincere la partita. Domanda del Lanza. 13 dei 18 gol subiti sono arrivati nei secondi tempi. Da cosa crede sia di peso? Cali di concentrazione, cali fisici o da una rosa corta che non le permette di cambiare molto in corso? No, non possiamo fare questa valutazione di un modo generale. Dobbiamo fare partita a partita. Questi numeri, se pensiamo alla partita con Napoli e con Atalanta, sono veri. Ma stiamo anche lavorando per migliorare la nostra prestazione difensiva in tutti i momenti della partita. Il Corriere dello Sport le chiede. I portieri della Roma non convincono. Sia Paolo Ovec che Mirante hanno commesso diversi errori in questa stagione. Pensa che la mancanza di un titolare certo possa aver tolto sicurezza da entrambi? Devo dire una cosa. Qui quando sbagliamo, sbagliamo tutti. E principalmente io. Sono il principale che sbaglia. Io ho fiducia in totale nei nostri portieri. Domanda del tempo. Ha definito il secondo tempo una prestazione di Bergamo da bambini. Che reazione ha visto nella squadra dopo le sue parole? Una buona reazione. Loro hanno capito quello che io ho detto. Rete Sport le chiede. Recentemente in Europa League si è detto orgoglioso dell'atteggiamento dell'intera Rosa. Del fatto che potesse contare su tutti. Poi però nelle grandi sfide in campionato fatica a fare dei cambi nei primi 70-75 minuti della gara. Perché? Non è vero che io faccio sempre il cambio 70-75 minuti. Io faccio il cambio nel momento che io penso che è giusto in funzione della partita. Domanda di Teleradio Stereo. Dopo la partita con l'Atalanta ha parlato di problema di atteggiamento. Analizzando la partita con la squadra siete riusciti a capire che cosa ha portato a questo cambio di atteggiamento? Sì, come normalmente facciamo abbiamo fatto le nostre analizzate e abbiamo capito quello che non possiamo fare. Centosono Sport le chiede. Sul gol subito da Gosens contro l'Atalanta abbiamo visto un classico errore del difensore, Karlsdorp in questo caso, che guarda la palla e non si accorge dell'uomo che gli taglia davanti. Stessa situazione è accaduta sempre a Bergamo con lo stesso giocatore due anni fa. Ma ovviamente con un allenatore diverso. Le chiedo, si tratta di una questione di errori individuali, di caratteristiche del difensore oppure c'è qualcosa che non va a livello di fase difensiva collettiva in queste situazioni? Voi solo guardate l'ultimo momento, ma io ho guardato più. Non è stato un problema individuale, è stato un problema collettivo. Abbiamo fatto pressione sul giocatore che fa il cross e abbiamo visto che loro fanno molto questo. La squadra ha abbassato molto veloce. Per me non vedo le cose così. Io vedo tutto e non possiamo solo attribuire a un giocatore in questo momento. Domanda di Roma TV. Le chiedo un aggiornamento sulle condizioni di Spinazzola. Non sta bene, non giocherà domani. Domanda di Roma Radio. La Roma ha già affrontato il Cagliari in amichevole a settembre. Che partita si aspetta domani? Sono partita diversa, è amichevole. Mi aspetta una partita difficile come sono tutte le partite. Ma è una partita che vogliamo vincere. Il Cagliari è una buona squadra, una squadra che vuole avere la palla, una squadra forte in contrapiede. Ma noi vogliamo vincere e giocare bene. Grazie. Grazie. Ciao.